E' l'ora di pranzo, cos'è questa? La polenta, è il primo di snarvara che si mangia il 24 di novembre perché è una sposa di oro, allora spezzatino con la polenta, però che è sempre crauti luganiche e naturalmente da buon polentoni c'è anche dei patatoni perché ne piace le patate guardella qui come che lei guarda, per oggi basta così, questo era soltanto per farvi vedere cosa che mangia il snarvara